Cibum fa tappa per l'ennesima volta al ristorante pizzeria Il Vecchio Mulino di Castrocello in provincia di Frosinone e come sempre ci riceve Lorenzo Mirante. Benvenuti anche quest'anno. Grazie Lorenzo, siamo contenti di ritrovarti, di ritrovare tutta la tua famiglia in questo locale che, ricordiamolo ai nostri amici telespettatori, è a due passi. Dalla Casilina, si troviamo a Castrocello, a pochi passi dal bivio di Aquino e siamo facilmente raggiungibili sia dall'autostrada che dalla Casilina vicino Roccasecca e vicino Cassino anche. Siete aperti tutti i giorni? Tutti i giorni tranne il martedì, aperti sia a pranzo che a cena. Sia a pranzo che a cena da voi è possibile degustare dell'ottimo pesce fresco e dell'ottima carne perché il vostro ristorante è completo, è vero Lorenzo? Ecco, noi non ci facciamo mancare niente, dalle tradizioni ciociare e quindi da tutte le carni al pesce del nostro golfo di Gaeta. Oggi per esempio possiamo offrire una bella ombrina, uno spiccolone di mare, una grenzaola con cui farci un primo spettacolare, l'astice, i gamberi rossi. Poi una cosa importante che va detta è che voi siete molto attenti alla ricerca delle materie prime di qualità, tant'è vero che ci sono anche delle novità che avete inserito per esempio Sì, negli antipasti abbiamo preso degli affettati un po' più particolari, il nostro nuovo arrivato è lo specca d'anatra, serviamo uno specca d'anatra affumicato su un letto di rucola e qualche scaglietta di mandorla in modo tale che andiamo a eliminare il dolciastro della carne d'anatra con l'acidità della rucola. Abbiamo qualche formaggio particolare, qualche pecorino nostrano e non, qualche pecorino al pistacchio, qualche formaggio particolare affumicato, abbiamo dei fini pasto di formaggi molto, veramente molto gustosi. Invece per quanto riguarda i primi, ecco ci sono delle novità che a te piace adesso? Sì, ecco, il nostro nuovo entry è lo gnocco ripieno, riusciamo a fare uno gnocco ripieno con specca e brie servito e spadellato con noci e pancetta e servito su una vellutata di zucca e due fettine di pancetta croccante. Altri piatti particolari? Per esempio, ecco, possiamo fare una bella fettuccina con la farina di broccoletti, questa generalmente la faccio a basini mare con un binomio calamari freschi e broccoletti, quindi ci rifacciamo sull'impasto stesso della pasta, o in alternativa ecco un bel vongole e broccoletti, noi cerchiamo sempre di abbinare un prodotto nostrano della nostra dedizione e del periodo anche, perché è un'altra cosa fondamentale, utilizziamo molto prodotti stagionali. Quindi territorialità, stagionalità, elementi importanti nella ristorazione. Ma dolci sì in fondo, ecco, tu ogni volta mi vizi, mi fai trovare questi dolcetti secchi buonissimi preparati da tua madre Adriana, che si occupa un po' della pasticceria del ristorante e pizzeria Il Vecchio Mulino di Castrocello, ma non solo pasticceria secca, vero? Sì, ecco, dei dolci freschi fatti ogni giorno, la nostra classica sbriciolata che oramai è diventata un must per chi ci visita ogni volta, la nostra cheesecake. Ogni tanto, ecco, cerchiamo di accontentare tutti i gusti e andiamo a fare un bel trist di dolci in modo da accontentare un po' tutti, quando non si, diciamo, non si riesce a scegliere fra uno o l'altro, se dobbiamo accontentare un po' tutti, quindi andiamo su un bel trist. E per accontentare proprio tutti, da voi non manca la pizza? Sì. Che pizza è con una maturazione, abbiamo detto, più corte? Una lenta, una lenta lividazione. Sì. Una lenta lividazione che va dalle 24 alle 72 ore, in modo tale da avere una pizza molto digeribile e molto croccante. Cotta a legno. Cotta a legno, ovviamente il forno è a legno. Tra le novità cosa ricordiamo? Gli impasti un po' particolari, ecco, forniamo ogni settimana un impasto un po' diverso, per esempio questa settimana avremo la segale, la settimana prossima la curcuma, cerchiamo di organizzare, diciamo, impasti sempre differenti. Le nuove entrate nella pizzeria, ecco, sono tante, per esempio quest'anno sto proponendo una pizza con il cornicione ripieno, con il cornicione ripieno di ricotta di bufala e condita con salsa di pomodoro e mozzarella di bufala. Un'altra, diciamo, un'altra new entry è la nostra tricolore, è una pizza con un cornicione molto alto, condita con un pesto di basilico, dei pomodorini secchi e qualche alice di cetara. Bene, però le new entry ci sono anche in cucina, queste non le abbiamo ancora svelate, ce le svelerà papà Antonino. Vogliamo andare ad Antonino? Andiamo, prego. Grazie. Il ristorante e pizzeria Il Vecchio Mulino di Castrocello è dotato di tre sale, la fiume che affaccia sulle forme di aquino, la gazebo caratteristica per la sua struttura in legno e la saletta interna, più intima. D'estate il servizio è anche esterno nel bel giardino, complessivamente il Vecchio Mulino ospita circa 200 persone. Antonino Mirante, chef e titolare del ristorante e pizzeria Il Vecchio Mulino di Castrocello, in provincia di Frosinone, è un volto noto agli amici telespettatori di Telenuniverso e di Cibum. Bentornati nel mio locale. Grazie. Iniziamo con un piatto particolare, uno stufato. Uno stufato di cinghiale con tre cofiori di come contorno per abbellire. Questo è il cinghiale? Il cinghiale, la polpa di cinghiale, prima di metterla a marinare con il vino rosso, con il cesanese, e le verdure, cipolla, carola e sedano, qualche foglia di alloro, qualche grano di pepe. E così c'è una marinatura di quante ore? Una marinatura di almeno 24 ore. 24 ore, e qui l'abbiamo già marinato. Poi tre cavolfiori, eccoli qua. Ci sono tre cavolfiori diversi, di vari colori, che aiutano a colorare il piatto dopo cotto, dopo fatto, preparato. Queste sono le varie spezie che ci si mettono nella marinatura. E questo è il peperoncino che viene mantecato, il tre cavolfiori. Antonino, siamo pronti per iniziare a cucinare il nostro cinghiale. Sì. Iniziamo con l'olio e utilizziamo una pirofila di terracotta. Sì, olio evo ovviamente, quindi pirofila di terracotta, che è già ben calda. Anche nelle pedi verdure. E poi anche in padella. Ecco, iniziamo a mettere la polpa. Marinata, abbiamo detto, 24 ore con il cabernet di Atina. E poi le verdure che abbiamo citato. Il sedano, la carota, la cipolla. E aggiungiamo di nuovo le stesse verdure, usate anche per la marinatura. La marinatura è anche per dare un po' sapore. Insaporire ulteriormente la carne in cottura. Nel frattempo cuoce, lentamente, mettiamo ancora qualche foglietta di... Un po' di erbe aromatiche, quindi il rosmarino, la salvia e l'alloro. Facciamo rosolare. Nel frattempo facciamo anche, passiamo in padella, i cavolfiori. I tre cavoli, no? Quindi abbiamo detto, appunto, stufato di cinghiale, i tre cavolfiori perché... Un pizzico di peperoncino. Ci aiutiamo con questa verdura già precotta, che adesso tu ripassi, appunto, in padella. E qualche foglia di basilico. Quindi peperoncino e basilico, olio evo alla base e lasciamo andare. Cominciamo a bagnare con un po' di vino rosso. Abbiamo utilizzato anche in questo caso il cabernet di Atina. Sempre il cabernet di Atina, un vino molto consistente, come sapore, come gusto. Lasciamo cuocere il nostro cinghiale per circa due ore, a fuoco lento. E ogni tanto una piccola mescolata. La cottura del cinghiale è ultimato, possiamo impiattare, Antonino? Sì. Abbiamo scelto un bel piatto da portata, ovviamente, a significare l'importanza di questo piatto, così ricco di sapore, di gusto. La carne di cinghiale è una carne notoriamente piuttosto decisa dal sapore forte. Ben ci stanno anche questi cavolfiori, per l'appunto di vari colori, che vanno ad esaltare il sapore dello stufato. Abbelliamo con un po' di prezzemolo, con qualche altra fogliolina di salvia. Lo stufato di cinghiale può essere servito. Per intanto linea la nostra nutrizionista Lorena Abbelli. La carne di cinghiale viene classificata come carne nera. Quella allevata allo stato semibrado, comunque appare molto magra e poco calorica. Dal punto di vista minerale, è da mettere in evidenza il contenuto in ferro e di potassio, importante per il corretto funzionamento dei muscoli e del cuore, e per la trasmissione degli impulsi nervosi. La carne di cinghiale è inoltre un'ottima fonte di proteine animali. Il cavolfiore è ricco di vitamine, sali minerali e povero di calorie. È un ortaggio invernale da consumare con regolarità per le sue molteplici proprietà benefiche. Lo stufato ha circa 200 chilo calorie. E come tutti ormai sapranno, al ristorante e pizzeria Il Vecchio Mulino di Castrocello, in provincia di Frosinone, non si mangia solo della ottima carne, ma anche del buonissimo pesce. A tra poco. Al Vecchio Mulino si mangia dell'ottimo pesce, e questo è il risaputo qui a Castrocello, in provincia di Frosinone, con lo chef Antonino Mirante, pronto a preparare dell'ombrina. In che modo? Proporremo un trancio di ombrina su un letto di verdure di stagione. Questa è l'ombrina, Antonino, che è stata già sfilettata, praticamente. A fianco cosa c'è? C'è un porro. Un porro. Poi delle acciughe. Delle acciughe che serviranno per mantecare le puntarelle. Le famose puntarelle alici, no? Appena spadellare, giusto che devono ripanere tutta la loro croccantezza. E poi cosa useremo? Useremo uno spicchio d'aglio con un ramoscello di rosmarino. Poi della farina e dell'olio evo. Antonino, subito l'olio evo in padella per cucinare il trancio di ombrina. Le padelle è ben calda, ovviamente. Quindi l'ombrina viene passata un po' nella farina e messa a cuocere prima dal lato della polpa e poi dopo dal lato della pelle, ovviamente. Utilizziamo un po' di rosmarino e, come dicevamo, per l'appunto il porro. Mentre nell'altra padella, come avevi anticipato, l'aglio servirà ad insaporire insieme all'olio le alici e a donare loro quella croccantezza necessaria per sposarsi bene con le puntarelle e quindi far nascere queste verdure di stagione, ossia puntarelle e alici, che poi costituiranno il letto del piatto che tu presenti. Ombrina cotta, puntarelle spadellate, via con l'impiatto Antonino. Va benissimo. Formiamo un letto, direi piuttosto comodo e saporito per la nostra ombrina, perché le puntarelle sono state spadellate, quindi mantengono la croccantezza, ma nello stesso tempo si sono anche un po' ammorbidite, oltre che insaporite con le alici. Ora la nostra ombrina, anch'essa ben cotta, e poi guarniamo con un po' di prezzemolo e un rametto di rosmarino. Buona ombrina a tutti! Ovviamente anche a Lorena Balle e a Patrizia Patini. Le proprietà nutrizionali dell'ombrina sono notevoli, infatti è poco calorica, è molto ricca di proteine e grassi salutari, abbonda inoltre di vitamina D e delle vitamine del gruppo B. Dal punto di vista ecologico, l'ombrina è attualmente classificata tra le specie a rischio. Una porzione contiene circa 150 kilocalorie. Siamo felicemente ospitati da Lucio Mancini nell'azienda La Ferriera di Adina, che ci dà l'opportunità di parlare del ferrato abbinato a questo cinghiale. Il ferrato che è interessante perché contiene il Petit Verdot. Tutti sanno che il Petit Verdot ha una resa buonissima e anche un'ottima predilezione nel maturare all'interno dell'ambiente laziale e toscano. Quindi qui siamo nel Lazio, per cui questo Petit Verdot sicuramente è stato inserito in maniera egregia. Il ferrato Luaggio è Petit Verdot, Caperne e Sirà, quindi un Luaggio classico praticamente per questo territorio. Il Petit Verdot sicuramente conferisce sia colore da una parte che struttura, quindi dà a questo vino sicuramente delle note molto particolari. È un vino giovane, dai sentori primari e secondari, tipici della fermentazione. Io dico così, è un vino che sa di vino, no? Cioè nel senso che ha questi sentori proprio tipici del vino un po' così naturale o quantomeno abbastanza semplice, per cui noi lo preferiamo abbinare anche con piatti meno elaborati. Colombrina, che è un pesce e giustamente va abbinato, diciamo, a questo discorso, sempre un vino bianco. Abbiamo un po' usato perché sappiamo che il semiato è un vino dell'azienda La Ferriera che ha una sua ottica di territorio, no? Perché tu dici che si abbina sempre a un pesce di fiume. Però, ecco, ciò non toglie che si può abbinare anche altre cose. Il semiato nasce sempre da una tradizione sempre del Visocchi. Quindi voi avete questa possibilità di mostrare a tutti che c'è anche una doc bianca. Certo, il semiato è un Sémillon Sauvignon Blanc, un po' segue la tradizione francese, no? Del Sauterno, di quelle zone importanti della Francia in cui questo vino sicuramente rappresenta l'eccellenza. I sentori, direi, di questo vino sono i sentori di limone, ananas, ma ha anche i sentori di frutta esotica, quale il mango. Sono importanti anche i sentori terziari, in quanto questo vino ha un lungo affinamento in bottiglia, per cui sicuramente la melacotta, il pane tostato, frutta candita, no? Sono tipici di questo vino. Concludiamo in bellezza e bontà questa puntata di Cibum al ristorante Pizzeria Il Vecchio Mulino di Castrocelo, in provincia di Frosinone. Ringraziamo la famiglia Mirante al gran completo per averci ospitato anche quest'anno. Ringraziamo voi, gentili amici telespettatori. Vi invitiamo a seguirci sul nostro canale YouTube Teleuniverso TV e come sempre, complimenti per aver scelto Cibum!